Katy Perry Katy Perry, l'outfit da concerto è epico e sexy allo stesso tempo . Ha scritto successi del 2017 come Shinehead to the Rhythm and Glish Swish. Ha prodotto 72 ore in interrotte di video streaming della sua vita per mettersi a nudo davanti ai suoi catticates. . Ha combattuto una guerra senza esclusione di colpi contro la cerrima rivale Taylor Swift. Possiamo affermarlo con assoluta certezza, un'armatura dorata se l'è meritata tutta. Katy Perry, l'armatura dorata, e sexy, della paladina del 2017. . L'hanno criticata, l'hanno minacciata, l'hanno respinta. Hanno detto che le sue battute sui koala erano eccessive, e che la scelta di combinare i migos e i ballerini transgender era stata più che mai contraddittoria. . . Le hanno puntato il dito contro e hanno pronosticato che il suo 2017 sarebbe stato un flop. . E invece eccola qui, più forte che mai, come una regina guerriera, mentre il suo tour witness va il tutto esaurito in giro per il mondo e le sue canzoni sono l'ossessione delle stazioni radiofoniche. . . E' stata convocata per condurre gli MTV Video Music Awards, non poco contestati, è diventato un giudice da oltre 20 milioni di dollari per American Idol e ha classificato i suoi partner sulla base delle loro performance sessuali. Che cosa manca più?. . I concerti di Katy Perry non sono solo un piacere per le orecchie, ma anche un autentico spettacolo per gli occhi. . Tra coreografie mozzafiato, effetti speciali e costumi di scena da mettere a disagio anche Lady Gaga, Katy Perry ottiene ciò che vuole, sempre. E Katy Perry non vuole niente di meno dell'effetto vom. . . . Ecco perché il suo ultimo outfit da 600 mila likes su Instagram è un'armatura dorata che mette in mostra il suo fisico scolpito e la fa sembrare appena uscita da una puntata dei Cavalieri dello Zodiaco. Ma in senso buono. . 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